Il sindaco di merito E con un metodo infallibile abbiamo ottenuto molte opportunità per la nostra città Ad ogni finanziamento, ad ogni opera per noi era motivo di grande felicità Vedere realizzate delle cose, vedere di nuovo il palazzetto dello sport, il teatro, oggi Erano delle opere certamente che interessavano la città da molti decenni Il momento in cui avrebbe desiderato non essere sindaco? Un momento particolare Non ne ho avuto mai la possibilità, per chi fa il sindaco Anche nei momenti brutti, difficili, soprattutto vissuti con grande ansia e tensione Per chi ha il senso della responsabilità, quale penso? Io ho avuto nel corso del mio mandato I momenti difficili sono tantissimi e non hai mai la possibilità di pensare In questo momento non vorrei essere sindaco, lo sei e basta E sai che tutto dipende da te o molto dipende da te Non hai tempo di pensare né di delegare ad altri le scelte difficili Io ci ho messo sempre la faccia, giusto o sbagliato che fossi Col senno di poi, dopo un anno, ne è balsa la pena rinunciare a 10 anni del diritto professionale? Non dovevo farmi questa domanda che per me era rancinante Perché ho questi due grandi amori La politica che appartiene al passato e la professione Quando facevo l'una mi mancava l'altra È stato un grande sacrificio in termini professionali ed economici Ma chi lo ha fatto rappresentando la propria città Qualsiasi sia il sacrificio in termini economici e professionali che ha dovuto sopportare Avendo fatto il sindaco deve dire che ne è sempre balsa la pena Comunque, ha avuto la dignità e il prestigio di fare il sindaco Una domanda un po' provocatoria Quale degli assessori dell'attuale amministrazione Barbagallo avrebbe voluto con sé? Devo dire che c'è qualche germoglio che può essere interessante Francamente non rinuncio a pensare ai miei assessori Né allora né adesso Nominerebbe un'altra volta il assessore Sorace? Se l'ho nominato, se ha lavorato con me Lo rifarei ancora oggi Capisco la provocazione Ma se ho messo la faccia per tante cose e tanti momenti difficili Sorace mi è stato leale e ha lavorato Ha dato quello che poteva dare Io lo ringrazio per questo lui e tutti gli altri E quindi lo rinominerei Non ribianco e ne nego nulla L'attuale consiglio comunale è stato oggetto di critiche Abbastanza anche pesanti Lei come, che le pensa di questo consiglio comunale? Questo consiglio comunale è fatto ad uso e consumo degli amici di Cambia Macileare I quali hanno spento ogni visibilità per il consiglio Compreso quello dei consiglieri comunali di maggioranza Ne hanno spento la diretta Se lo avessi fatto io ci sarebbe stato sicuramente una protesta assolutamente forte Quasi violenta sul piano verbale Invece sono stati tra virgolette bravi Hanno spento il consiglio comunale Hanno spento l'opposizione E colpese i loro consiglieri comunali Quindi il ruolo del consiglio quale potrebbe essere in questo momento? Certamente molto meno forte di quello che aveva in precedenza Io ho superato lo tsunami di un'opposizione Spesso maggioranza in consiglio Che aveva una ferocia che nessuno ha mai avuto Eppure sono sopravvissuto Certo, non dovrebbe pensare cosa avrebbe fatto E come avrebbe operato l'amministrazione Con un'opposizione come quella precedente Ma nella storia, nonostante Vico ci abbia messo nel suo I corsi e ricorsi non sempre sono identici Roberto Barbagallo, il suo successore Un giudizio? Io ho molto rispetto di Roberto Barbagallo Perché intanto il mio sindaco È il sindaco della mia città Da lui ho ricevuto stima e rispetto E questo è reciproco Il giudizio sulla condotta ammestiva Ognuno ha la sua indole Dico solo a Roberto che Rinviare i problemi O affidarsi al fatto o al destino Che qualcuno comunque si risolva da solo O risolve qualcun altro Prima o poi si crea un cortocircuito Il sindaco Vuole o non vuole Chi fa il sindaco Prima o poi Dove ammetterci la faccia sempre In ogni In ogni Occasione Un sorriso per tutti Non è possibile Una domanda Però è una persona di buon senso Questo devo dire È una persona di buon senso E questo Ripeto Abbiamo anche un rapporto Di grande correttezza Se io vado al comune Svelo Un particolare Se io vado al comune Rara volte Ci sono stato Io chiamo il sindaco Il segretario generale Se c'è qualcosa che mi accorre Ho qualche informazione Da Assuma Perché Dico che sia giusto Sono L'ex sindaco Chiamo Chi Adesso lo è Per un rapporto Proprio di correttezza E di trasparenza Assuma Perfetto Chiuderebbe il centro storico? In questo momento Le uniche condizioni che ci sono E per Riportarlo Come io lo avevo Riportarlo Con la serpentina Che piacerà o non piacerà Certo le macchine Che passano davanti A Piazza Duomo E alla cattedrale Non mi piacciono Questa pista Tipo di Di decollo Che c'è in Piazza Duomo Mi piace Ancormeno Le condizioni forse Per chiudere tutto Non c'è Ma se cambiamoci ideale Ha sempre detto Che non andava bene La chiusura del centro storico Adesso Adesso Cosa fa Dice che Lo vuole chiudere Il centro storico Per un'area Ancora più ampia Ma io ho l'impressione Che è un modo Per non chiuderlo mai E allora Io mi sarei accontentato Di quello spazio Se ci saranno le condizioni E questa amministrazione Farà una chiusura più ampia Di quella che avevo fatto io Benvenga Ma ho l'impressione Che non lo farà Non sfiderà Il dissenso Imbiegati comunali Imbiegati comunali Con L'attuale amministrazione Non penso Siano estremamente felici Con lei Forse il rapporto Era diverso Cosa ne pensa? Io posso dire Che Io avevo un rapporto Di grande franchezza Non penso Che durante il mio mandato Sia stato amatissimo Dai dipendenti comunali E soprattutto Dagli amici precari Che Non comprendevo Come le leggi Anche di contabilità Non consentissero Una stabilizzazione Quindi Non penso Di essere stato Amatissimo Ma certo Sul piano della correttezza Perché dicevo esattamente Come stavano le cose Questo sì Certo Oggi Devo dire Che vi è Mi si restituisce Questa mia Correttezza Questa mia Chiarezza Ma questo dipende Da che cosa è stato promesso Dipende di comunale Durante la campagna elettorale Se io ho promesso Scintille Lustrine E paillette E poi Mi ritrovo Una situazione peggiore Allora magari qualcuno Comincia a pensare Meglio chi Ci diceva le cose Come stavano Carnevale E Antonio Bonillo Questa è una provocazione Antonio Bonillo Per la sua cultura giuridica Nel affrontare L'amministrazione Della cosa pubblica Sapete che è una persona Che stimo Come stimavo suo padre Perché è una persona Di buon senso Non capisco questo fuoco Amico O nemico E questo accerchiamento Che Antonio Sta subendo Io non ho condiviso Le scelte Che Antonio Si è lasciato imporre Sui carri fermi Che ha Veramente Denaturato E' reso Diverso Il carnevale Questo non l'ho capito E questo l'ho sempre criticato Mi auguro Che cambi di nuovo E si ritorni Alla vecchia sfilata Che rende gioioso E spettacolare Il carnevale Però Sono convinto Anche Che è stato lasciato Così solo E forse anche Per scelta politica Che a parte Il sindaco E San Volicotra Se non fosse stato Per Antonio Coniglio Perché ci ha lavorato Gratuitamente Ogni giorno Per molto per il giorno Sono convinto Che il carnevale Sarebbe esaltato Chi è contro Il carnevale Una cese Non lo può essere Può non amare Il carnevale Ma non può Non capire L'importanza Del carnevale Per la città Il servizio Della Senesi Come lo giudica? Peggiore Di quello Della Tassa Che già Non è entusiasmante Abbiamo toccato Il punto più basso Poi bisogna vedere Se è un problema Di ditta O se Qualche altro problema La spazzatura E la Tassa È aumentata Ma il servizio Non è migliorato Mi auguro Che con un nuovo Capitolato Ma si è perso Un anno di tempo Perché tutto sommato Con lievi modifiche Già la mia amministrazione L'aveva approntato Ci sia un investimento nuovo E possa partire La differenziata È tutto lì Anche noi abbiamo atteso Quattro o cinque anni Per poter partire Con la differenziata Comunque Il giudizio Sono una serenziata Negativa Villa Belvedere Pensieri A un anno di distanza Avevo previsto E lo disse Alla sovrintendente Personalmente Che lavori importantissimi Che mai Sarebbero potuti fare Se non confondi Di avendere Prospettata la sovrintendente Dovevo fare Quello che avevo detto E minacciato Dovevo aprire la villa E dovevo mettere La transenne Nella parte Dove c'è il ghietto Dicendo Divieto di accesso Per vincolo Di sovrintendenza L'avevo minacciato E lo avevo detto Anche la sovrintendenza E poi non l'ho fatto Per ragioni Evidentemente Istituzionali Perché vedi Noi con quei soldi Abbiamo fatto Il centro del turismo Il palazzo del turismo Abbiamo fatto L'angolo di paradiso Criticatissimo Oggi tutti quanti ci vanno Ed è molto bello L'arena Il caffè Lavori importantissimi Ma tutti parlano Del ghietto Non aver capito questo È stato un grave bonus Per la città Il fatto che io Non abbia messo Le transenne Facendo diventare Un caso nazionale È stato Un mio atto Di codavvio Forse Perché L'imposizione Della sovrintendenza Non poteva essere Ibaltata E allora dovevo fare Una clamorosa Protesta E questo forse Sono un po' Pendito Per il resto Gli accesi Si accorgeranno Quando valgono Questi lavori Che per il resto Sono ben fatti E anzi Che venga riaperta E non venga tenuta In ostaggio Dopo molti Molti mesi E il tempo Di sospensione Dell'apertura È più lungo Adesso Che quello Per fare Il lavoro Qualcosa Non funziona E quindi Al di là delle parole Qualcuno Al di là delle promesse E degli annunci Durante la campagna elettorale Vada lì Taglia Se deve tagliare Qualche ramo O qualche albero Se è questo Riapra la villa Perché la villa Va riaperta Poi sul ghiaghetto La verità La verità Ve l'ho detta Se qualcuno È pronto A risistemare Le 15 giorni Ma non ci riuscirà Lo faccia Siamo ad agosto E nei termini Che qualcuno Si era dato Non trovo traccia Che vero E Una domanda A Malcord A Malcord Quando incontra I suoi concittadini Per strada Qual è la domanda Che le fanno Più ricorrenti Ah me ne fanno mille Perché mi chiedono A me ora Della nuova amministrazione E io dico sempre Che Il mio ruolo Non è né di opposizione Né di Autorità morale O civile Della città Io sono un cittadino Che ha avuto L'onore Di fare il sindaco Non mi avete mai sentito Con espressioni Sguaiate Nei confronti Né dell'amministrazione E per rispetto Neppure Del sindaco Quindi Non mi sento Di essere giudici Di appello Di Di nessun E poi nei confronti Di un'amministrazione Qui Gran parte dei componenti Erano Con le armi affilate E venenose Nei confronti miei Della mia Amministrazione Però ho un bellissimo rapporto Devo dire che Mi fermo volentieri A chiacchierare E trovo grande affetto E grande considerazione Se mi permetti Anche stima Allora Per chi ha fatto L'amministratore Del sindaco Al di là Al di là Delle Legge politiche E al di là Dei giudizi Negativi Positivi Che ognuno può dare Vedere negli occhi La stima Dei concittadini Devo dire Per me Che non sono un venale Non ho mai fatto Questione di soldi Io ho fatto Per spirito di servizio Anche per vanità Se vuoi Questo è il massimo Del riconoscimento Perché penso Che la città Abbia capito Che tutto quello Che ho fatto Giusto o sbagliato E penso Che qualche cosa Di buono È stata fatta L'ho fatto sempre Con disinteresse Personale Assoluto Non c'è bisogno Che qualcuno Vada a controllare I miei conti O i miei averi Abbiamo dato Anche testimonianza A noi Del sindaco Quello Che stimiamo Per la sua Integrità Morale Sicuramente E Qual è L'avvenire Politico Di Nino Garozzo Io direi Qual è L'avvenire Politico Di chi ama La politica La politica Dovrebbe dare Un minimo Di prestigio In più A chi Nelle professioni Nel lavoro Nella vita Di tutti i giorni Se oggi La politica Non dà questo Ma addirittura Essere in politica Comporta Al contrario Quasi La disistima Le accuse Per il momento Di crisi Che si vive Perché si vive È un momento Di tutto Contro tutti Beh io Non penso Alla politica Poi c'è Il mio grande amore Che è la professione Ci sono tornato Non mi ha tradito Io l'ho tradito Una volta La professione La professione Non mi ha tradito La conclusione Vuoi che chi Non mi ha tradito Nonostante il mio Tradimento Io possa Tradire A mia volta Per la seconda volta La professione Mi dirà Che non ci sarà Una seconda occasione Si Tu Hans Si 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 Grazie a tutti.